Con il mese di ottobre è iniziato un ricco calendario che vede protagonista l'attivismo dell'Associazione Nazionale Antigraffiti per una Milano più pulita al centro di interventi di rimozione ed imbrattamenti. La sfida più grossa è stata lanciata domenica scorsa con la rimozione di 1.500 scritte presenti sul naviglio pavese, su Ripa di Porta Ticinese e il tratto di Viale Gorizia che collega i due navigli. Diversi gruppi di cittadini, oltre un centinaio, sono stati impegnati a recuperare il decoro urbano dei loro quartieri. Le ultime tappe sono state coinvolgenti, c'è stata una grande partecipazione di cittadini e soprattutto la cosa più bella e più positiva è che abbiamo avuto anche un contesto di cittadini, di residenti che sono scesi a chiedere, a informarsi. Quindi diciamo che questo messaggio sta veramente passando di voce in voce e quindi sta veramente raggiungendo i nostri quartieri, le nostre vie, che è quello che noi proprio desideriamo. Contagiosa la voglia di fare dei milanesi che dopo vari cleaning in diverse realtà territoriali e cittadine e dopo una primo cleaning condominiale portano avanti il progetto Milano Quartiere Pulito. L'obiettivo di questi eventi di clean up è di creare degli esempi virtuosi attraverso un'azione dal basso che si ispira ad una cultura del fare, rendendo il cittadino protagonista nella lotta contro il degrado. E la voglia di fare è davvero trasversale coinvolgendo un po' tutti, giovani, donne e anziani in primis. Abbiamo, nonostante quello che si creda, tantissimi ragazzi giovani che veramente sono molto motivati. Poi abbiamo forse una prevalenza anche di femmine, di donne, di giovani donne, anche di casalinghe e diciamo professionisti. Abbiamo un po' di tutto, gente in pensione. Però la cosa bella è che abbiamo veramente tanta partecipazione di giovani. Questo è un bellissimo segnale perché si pensa sempre alla città, praticamente queste tematiche sono portate avanti solo da persone di una certa età. Invece no, ci sono tantissimi giovani veramente sensibili, veramente con tanta voglia di fare, di dare per la nostra città. Senta, questa al di là adesso della polemica facile è anche la risposta concreta a quelli che dicono le istituzioni non ci sono. Beh, ci sono i cittadini. Diciamo che, visto che le istituzioni, come si suol dire e come è anche vero, non possono arrivare dappertutto, diciamo che c'è veramente una grande cittadinanza attiva, ci sono tantissimi cittadini che hanno voglia di fare, che hanno il cuore pronto per dare alla nostra città e quindi si tratta veramente di canalizzare queste risorse, che oltretutto sono le risorse più belle perché sono risorse spontanee e veramente cariche di generosità.